Beh, pazienza, andiamo. Già. Vai, dico, volemons adisertare ostrega. Ostrega. Uno, due e tre. Signori, avete chiesto il conto, signori? Ah, già pago io. No, 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 niente affatto. Te pare? Scusa, ho detto che pago io. Te prego, non insisti. Con permesso. Con permesso. Quando dico una cosa è quella. No, guarda tu. La vacca. La vacca, dove sta la vacca? Che vergogna. Questi giovani d'oggi sono sempre pronti ad alzare le mani per l'inte. Che cosa ci tocca vedere. Non ci danno il tempo di pagare. Eh, no. Allora, e punta. Allora. Allora. Oh, 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 oh. Scusi, signore Oh, pari, scusi Ma è una torta freschissima, tutt'ova, buro e latte, una specialità Aspetta un po', sarà vero che è speciale No, 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 no L'avevo detto, so' capelloni Oh, gargantù, è il namo? Ecco Eppure uno schiavo ce lo potevamo comprare, però Ehi, muoviti Prendeli, non laseri scappare Prendeli, non laseri scappare Prendeli, non laseri scappare